Marco Franzelli, Donatella Scarnati, Lo sberleffo di Godot 2. Perché questo titolo? Il titolo viene da una battuta che fece l'avvocato Agnelli su Del Piero, lo soprannominò Godot, dal dramma di Samuel Beckett, aspettando Godot, qualcuno che doveva arrivare non arrivava mai, in quel momento Del Piero doveva tornare a giocare bene e non ci riusciva, doveva tornare a segnare e non ci riusciva, allora lo chiamò Godot. Lo sberleffo perché poi invece ci è riuscito, ha superato addirittura il record di gol di Boniperti e quindi abbiamo associato il soprannome a quel gesto, lo sberleffo, quella linguaccia che Del Piero adesso fa sempre più spesso dopo che segna un gol. E adesso invece parliamo di Formula 1. Siamo alla vigilia del primo Gran Premio, Gran Premio d'Australia. Come la vede Marco Franzelli, un esperto, questa Formula 1 che sta per partire? Ma vedo con la Ferrari davanti a tutti, davanti a tutti perché è la scuderia campione del mondo, perché ha il pilota campione del mondo che è Kimi Raikkonen, che ha vinto il titolo nell'ultimo Gran Premio dello scorso anno. E quindi le prove invernali e il risultato dell'anno scorso fanno sì che sia la Ferrari e la scuderia favorita, con Raikkonen o forse anche con Massa. Avversaria della Ferrari probabilmente anche quest'anno la McLaren, direi però la McLaren di Hamilton, mentre vedo più distante quella di Kovalainen che ha preso il posto, il finlandese che ha preso il posto di Alonso. La tecnologia dirà qualcosa di importante anche in questa edizione del Mondiale? La tecnologia in Formula 1 dice sempre qualcosa di importante perché la Formula 1 è la tecnologia, quest'anno non ci sarà più tanta elettronica, è stata ridotta l'elettronica, tutte le squadre avranno una unica centralina uguale per tutti, non ci sarà più fra le varie cose il controllo di trazione, cioè quel sistema per spiegare che evita il pattinamento delle gomme all'uscita delle curve, conterà quindi di più l'abilità, la capacità del pilota o dovrebbe contare di più. La Ferrari ha due grandi piloti, Raikkonen e Massa, quindi ha le carte per poter vincere di nuovo con tanta tecnologia o con meno tecnologia.